Federer è Messi e Nadal è Cristiano Ronaldo Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo passa dal basement, rieccoci qui Ciao, io sono Gianluca Gazzoli, questo vuol dire nuovo amico con cui chiacchiereremo Se vi va e non lo avete ancora fatto, iscrivetevi a questo canale così non vi perdete niente Continuate ad ascoltarci anche su Spotify che stiamo conquistando le classifiche di tutto il mondo Ma al di là di questo la cosa più bella è l'atmosfera che si sta creando qui nel basement Insomma sono davvero contento perché volevo far respirare o almeno far vivere O insomma avere anche un feedback da questa persona Dal basement è passato Pierluigi Pardo Buongiorno, 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 ottimo il caffè Ottimo il caffè, io posso venire anche le volte in cui non c'era ospite Ma certo, è solo per il caffè Caffè straordinario Ma questo è il mio miglior feedback Ma noi andiamo proprio a prenderlo in Messico, abbiamo dei chicchi Sentivo l'arabica, la classica arabica Vuole il caffè con l'arabica Come stai Pier, tutto a posto? Tutto bene Tutto bene? Ma io devo farti, adesso la puntata magari andrà in onda Non proprio nel giorno in cui la stiamo facendo Però ieri hai festeggiato la tua prima festa del papà Sì, devo dire che è stato bene Come è stato? Ma è bello, Diego è fantastico Diego è fantastico, sono un padre un po' ansioso Molto innamorato, con gli umori che cambiano ovviamente A seconda di cose, ha mangiato, non ha mangiato 180 grammi 150 grammi la pappetta C'è uno sfoghio Sì, sei apprezzato Beh, insomma Un pochino sì Un pochino sì Però meraviglioso Molto simpatico, apparentemente Apparentemente Sì, ma non sappiamo che farà di lui Io gli auguro di diventare una persona dolcissima e tenera Insomma Però devo dire che è una Io scherzando con gli amici Dicevo sempre Gli amici con i figli I figli sono sopravvalutati Tutte le volte in cui magari non venivano I weekend Ma erano abbattute ovviamente E devo dire che ho cambiato Completamente Comunque l'ho visto Una cosa incredibile Un'emozione incredibile L'ho visto questo cambiamento Perché più o meno tutte le volte che ci troviamo La mia seconda è nata più o meno vicino a Diego E quindi vedevo che anche tu tutte le volte Avevi una tenerezza diversa negli occhi Perché di fondo Le prime volte che lo vedi Tu sei di fronte a uno sconosciuto Cioè la verità è che È un po' come Guzzanti con l'aborigeno Noi e te che sei dovevo dire La prima volta che l'ho tenuto in braccio È un senso misto di Di responsabilità Di dipendenza Cioè senti già che la tua vita dipenderà da lui Appunto dal suo rapporto con le pappette Da quando cammina Come l'alla Tutte le cose La sesta malattia C'è avuto la sesta malattia Che uno Io manco sapevo che esistesse Ma è stato divertente Perché ero in aereo E a un certo punto A un certo punto Mi vibra il telefonino Al momento dell'atterraggio Però non c'era ancora la connessione buona E leggo la chat con la pediatra Dove dice Con la foto Che Lorenza manda E con queste bollicine Fa chiamatevi subito La sesta malattia Quindi io ho avuto 25 secondi Al momento dell'atterraggio In cui ho pensato Eccola è finita Vado direttamente Ditemi che Invece in realtà è una cosa Sì è una cosa normale Una cosa abbastanza normale Che i bambini possono avere Quindi però Questa dipendenza dagli umori E da questa fragilità È veramente Meravigliota Questi cambi di umore improvvisi Dalla felicità Al pianto Magari perché ha fame Devo dire che è divertentissimo A me è venuta la paura dell'aereo Che non avevo mai avuto Da quando sono diventato popolo Cioè non me ne è mai fregato niente Hai capito che sei prezioso No beh O più che altro Che ci tengo a vedere Come vanno a finire le cose Più che altro Si dice di qualche pilota di Formula 1 Di chi fa lavori molto pericolosi Che poi con la nascita dei figli Insomma Non so se sia vero Non so se sia vero Però sicuramente Insomma un conto È essere responsabili Soltanto della propria vita Perché è importante La nostra vita Ci interessa Però lo fai con Certo Però lo fai sì Quanto meno lo fai con la libertà Anche di decidere Ci sono esempi Anche straordinariamente letterari Anche di autodistruzione Anche di fallimento Adesso vogliamo fare un discorso Cioè ognuno è libero Di vivere la propria vita Come vuole Ovviamente Fermo restando che poi Se c'hai un amico In difficoltà Gli dici sempre Che deve trovare una speranza È ovvio che Però insomma Uno è libero anche Di farsi del male della vita Fa parte dell'arbitrio Delle persone Quando hai una responsabilità Nei confronti di qualcuno Così piccolo Così fragile Allora lì le cose Un po' cambiano Quindi ti capisco Sì 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 Ci siamo Diciamo che questo ci siamo Con il pallorino come va Vabbè Non c'è il veterano Sì sì Diciamo che Sono comunque ancora molto imbranato Nonostante ne abbia Ne abbia fatti un po' Ma non mi piace Mi piace dipende anche Non il contenuto No anche perché Il pallorino è il pallorino Perché dipende Lo diciamo Per chi non avesse avuto Questa Gioia Che ovviamente Dipende anche Da che cosa trovi Certo Del pacco regalo Però devo dire Che il pallorino Io poi ho problemi Di manualità Nel senso che sono Anch'io Questo è molto complicato Il pallorino Mi è sempre venuto Abbastanza facile Meno mai A parte una certa difficoltà All'inizio Su capire il davanti e il dietro Sì Però poi No Capisci Come quando vai alle terme Che devi fare il massaggio Che non sai come metterti La mutandina Ma quello E' un altro discorso Sopravvalutata pure lì La mutandina Comunque E' incredibile Piero perché Tu sei ormai Sì veramente Un uomo di spettacolo A 360 gradi Nel senso che Parti come Giornalista sportivo Comunque E' un po' stato Il tuo percorso Però come vedi Hai una presenza Che è data Dal tuo carattere Cioè tu sei sempre stato così Io da piccolo Ero molto timido Ma ti parlo di quando avevo 3-4 anni 5 anni Ho un frame Della mia vita Nel mio portone Con Tipo qualcuno E io che mi Ritraggo dietro Le gambe di mio padre Ma forse a 3 anni Ero un frame Che mi è rimasto Non so neanche se sia vero Se sia stato autoprodotto Dalla mia immaginazione Da bambino ero molto timido Ma da bambino Bambino Poi c'è stata un'esplosione E onestamente Anche se io poi Provo a dire Che in realtà Ho una profonda timidezza Eccetera eccetera Però insomma È abbastanza difficilmente Difendibile Questa posizione in pubblico Ma che stai a dire No perché Esatto No 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 Ma certo Certo Però sai Quello è anche un meccanismo Che un po' si autoalimenta Nel senso che comunque Poi quando Ti abitui a A essere in un certo modo Poi se sei Minimamente conosciuto Da qualcuno Magari Quelli che ti conoscono Tendono ad associarti così E quindi È chiaro che la vita È tremendamente complessa Tremendamente difficile Può essere Ci possono essere Delle cose imparabili Della vita Delle cose enormi Per cui L'obiettivo è sempre Cercare Le cose che puoi cercare Di rendere un pochino Più leggere Secondo me l'obiettivo Potrebbe essere quello Perché se no Poi non sempre ci si riesce Chiaro Non è che Adesso mi viene in mente Perché l'abbiamo citato Diego eccetera Il nome è una È una sua volta citazione O è stato No il nome È il nome del nonno Ah ok E poi Diego Pardo È una roba È bellissimo È pronto già Per il mercato sudamericano Per i progetti Per i progetti Per i progetti Per i progetti È stato quello Che ha pagato Per primo I suoi errori Quindi Voglio dire Uno che ha pagato Tutto nella vita E probabilmente Il rimpianto Di alcuni suoi amici veri È non essere riusciti A dargli una mano In certi momenti Però ecco A me di Baradona Piace l'umanità Il calciatore Sì Il calciatore è straordinario È un genio Eccetera Però è proprio L'idea Che all'interno Di questo Profilo Da superstar Da campionissimo Poi ci fosse Una profonda Tragilità Che significa Umanità Che significa Ovviamente Le grandezze Ma anche le cadute Questa cosa La trovo molto umana Quindi per Baradona Ho ovviamente Una passione Come No Perché poi Ci sono buoni censori Molto spesso Ci sono quelli lì Con la matitina Che ti dicono I moralisti Ecco A me quella roba lì Non mi piace Quindi Diego Mi piace come nome Sicuramente Baradona Ha contribuito Al fatto che questo nome Mi piacesse Però la citazione E ci sono proprio Tutti i puntini Che si uniscono A casa A casa dei miei genitori C'è una targa Dedicata a mio nonno Cavdot Diego Pardo Perfetto Quindi se lui Un giorno Andrà a vivere In quella casa Deve prima diventare Cavaliere Il dottore Sì Siamo un po' appropriato Ci stiamo lavorando C'è un progetto L'abbiamo detto Di calcio a destra e sinistra E soprattutto Gioca a basket Perché poi Questa è l'altra cosa forte Ultimamente Le volte che ci siamo visti di più Non erano contesti Legati al calcio Ma erano più legati E come nasce la tua passione Verso quello sport Giocatore In maniera pietosa Pietosa No pietosa Insomma Io ero alto 1,84 A 12 anni E sono 1,87 A 49 Quindi capisci Quindi mi avevano impostato Da numero 4 Perché adesso qui Non so se Sì È colta È colta Poi dopo Chiaramente il caviglione Salto 5 centimetri Diciamo Sono stato sempre abbastanza scarso Però insomma Mi sono divertito Mi sono trotto le mie soddisfazioni E ancora te le vai a vedere un po' Sì sì Adoro Adoro Poi devo dire che da 2-3 anni Mi è ripresa proprio la passione Quella profondissima Devo dirti la verità Un po' impopolare Ma L'NBA ovviamente È una cosa meravigliosa Ma l'adrenalina Delle grandi partite europee Mi piace moltissimo Bello Qual è la differenza secondo te Che Vabbè Poi i play-offs sono un'altra cosa Sì sì Per coinvolgere le famiglie Insomma Sono stato a vedere Un paio di anni fa Miami-Filadelfia Perché mi piacciono i Sixers Ovviamente Abbiamo aperto il supplementare E Tutte le cose che Insomma La maglietta Le magliette che vengono sparate Con lo spara È una festa La grande differenza È proprio che quella È una festa Bello Però insomma Quel clima L'intensità Delle partite europee Dei grandi derby Quelle città di basket Come Atene Come Istanbul Come Belgrado Come Balizzo Ma sicuramente Ha un fascio Ha un calore Anche un calore diverso Però come viene vista Secondo te in Italia Questa cosa Ad esempio Tu sei uomo di sport Vieni riconosciuto Ovviamente Per il mondo del calcio Però hai una passione Per altri sport Tra cui il basket Può un giornalista Avere più passioni Essere più Perché sai A volte sembra che Se tu parli di un altro sport Allora vai a toccare Un ambiente che non è il tuo E quell'ambiente Che l'ha sempre visto suo Cioè ci sono dei compartiti Io credo che la specializzazione Sia una cosa Una cosa importante Nel senso che Per esempio Avevamo proposto in passato Di fare telecronica di tennis Però secondo me È importante Soprattutto se sei Se sei Molto conosciuto E molto connotato Su uno sport È difficile andare a fare Andare a fare Concorrenza ad altro Magari studiando Uno potrebbe andare a fare Telecronica di basket Anche di livello Per dirti Però insomma Poi Secondo me Però al di là Senza scendere Nella cosa Senza scendere Nella cosa super tecnica Anche perché poi diventa Lavoro anche quello Quindi diventa complicato Però proprio il fatto Del poter Culturalmente Seguire più sport Ma assolutamente Questo assolutamente Sì Infatti secondo me Un conto è la telecronica Che comunque è un lavoro Strettamente tecnico Un conto è una conduzione Una conduzione Di un prepartita Di Eurolega Lo potrei fare Senza secondo me Alcun problema particolare E in qualche modo In radio A tutti i convocati Lo facciamo Per dirti Quando parliamo di basket Parliamo di altri sport La telecronica È chiaramente Una materia molto più tecnica Ma lo vedo anche Nella preparazione Delle partite La preparazione Di una telecronica Per un telecronista È un lavoro di ore Nel senso che C'hai tutti i dati Li aggiorni Ne prepari mille Poi ne dirai dieci Di dati Durante le partite Perché sono soltanto Quelli rilevanti O magari Una cosa che succede Allora a quel punto Vai a pescare Che non so Il giocatore che non segna La tot minuti Segna Ecco dopo 614 minuti Si interrompe L'imbattibilità Se non segna Non lo dici Perché l'imbattibilità Continua Faccio per dirti E quindi Tutti quegli aspetti Tecnici della telecronica Sono una cosa Un po' diversa Rispetto a fare Invece diciamo Uno studio di presentazione Quello si potrebbe anche fare Però in generale Secondo me È molto Cioè lo sport Io credo Che ci sia Una grande battaglia Culturale da fare Nel nostro paese Bello Bello Sembrava quasi Un sottosegretario Molto istituzionale Però molto vero Ci tengo a dire No nel senso Che lo sport Secondo me Nel nostro paese Deve E in parte Sta succedendo Deve acquisire Una dignità Agli occhi di tutti Ancora superiore Lo sport è Una cosa Prima di tutto Che fa molto bene E lo dico io Che ho una pancia Di sopra Di ogni sospetto Fa molto bene I paesi Che investono di più In pratica sportiva Sono quelli Che investiranno di meno In sanità Perché comunque Più le persone Fanno sport Ma è proprio dimostrato Scientificamente Cioè È un dato economico Oltre ovviamente La felicità Delle persone Nel senso Che comunque Lo sport Al di là Di tutti gli aspetti Diciamo Sulla salute Cioè Le endorfine La felicità L'allegria L'empatia La socializzazione Il rispetto La cultura La realtà Cioè A mille cose Lo sport praticato Dico E quindi Praticato E apprezzato Quindi Anche se rimango Un telecomunista di calcio Mi piace andare a vedere Il tennis Mi piace giocare a padel Quest'anno c'è la rider Di golf Che è un evento Meraviglioso E tutto il resto Insomma Cioè Lo sport va celebrato A 360 gradi Chiaro Però in Italia A volte Sembra sempre Che sia un po' L'ultima cosa Beh allora Pensa Pensa al momento Del lockdown Che è stato Un momento drammatico Ovviamente Bisogna avere un rispetto Ed eravamo tutti Qualcuno Insomma Anch'io Ho avuto Non dei familiari Ma dei parenti Che sono stati colpiti Quindi era un momento Terribile Però in quel momento Lì Sembrava impossibile Tornare a pensare Allo sport Anzi Sembrava proprio Una cosa Che Di dubbio gusto E non lo era Non lo era Perché invece Lo sport È stata Una delle cose Che ha contribuito A ripartire A ricostruire Un senso Di fiducia Nel futuro Di ottimismo Anche di svago E anche dal punto Di vista pratico Pensa a tutta La famosa polemica Che c'era su Iran Certo Sì Quelli sui balconi Che gli indicavano Probabilmente Quella mezz'ora Di corsa Intorno al palazzo In solitaria Erano soldi Dello psicologo Disparmiati Non so come dire Quindi ecco La cultura Secondo me Del fisico In generale La cultura Dello sport Secondo me Meriterebbe Un'attenzione E tu Quando hai iniziato Anche se il mio sport preferito Rimane ovviamente La caccia a pepe Beh comunque Fai anche un bicipite Fai un bicipite E poi comunque aiuta Perché anche il cibo Sicuramente È convivialità È passione È convivialità È felicità Io credo che veramente Sia uno dei motivi Per i quali valga la pena Vivere No ma davvero Sia proprio una Delle mie passioni principali Poi siamo in un paese Da questo punto di vista Straordinario Perché ci offre Una varietà E quindi questa cosa qui La associ alla cultura Io faccio il programma Con il Dani In radio E delle volte È impressionante Perché scopro delle cose Che mai avrei immaginato Cioè ricette Che magari risalgono A 800 anni prima Oppure preparazioni Che a distanza Fra un paesino e l'altro A distanza di 3 chilometri Cambiano Ed è meraviglioso No è sempre tutto collegato Poi al proposito Credo che tu sia Una delle persone Più interessanti Con cui andare A cena o a pranzo Nel senso Sei anche tra quelli nominati No a volte quando dicono Ma tu con chi vorresti andare Con A volte alcuni Piuttosto che una bella donna Famosa eccetera Citano anche Pierluigi Paglio Perché comunque Ci divertiamo Cioè sei sicuro Che tu a fine serata Torni a casa Soddisfatto Dalla cena Adesso io quando no Un piatto di cacio e pepe davanti Però come hai iniziato Tu a fare questo percorso Nella tua vita Cioè quando hai capito Che lo sport sarebbe stato In qualche modo Il tuo lavoro Il mio sogno da bambino Era fare il telecronista Cioè io giocavo a casa A subuteo con gli amici A palletta da solo Da bambino Figlio unico E facevo la telecronica Delle partite Quindi era assolutamente Il mio sogno Poi non c'era Io in famiglia avevamo Amici medici Amici militari Amici insegnanti Non c'era uno straccio Di conoscenza Per provare neanche a dire Mi dai un consiglio A chi posso mandare un curriculum Quindi nel frattempo Io ho fatto il test Per scienza della comunicazione Che sembrava una tesi di laurea Una facoltà di laurea Che potesse essere a fine L'ho anche superato Un po' ho capito Che secondo me C'entrava poco il giornalismo E quindi sono andato A fare economia e commercio Nel fare economia e commercio Durante un Erasmus a Londra Ho sentito che Telepiu Cercava dei telecronisti Ti parlo del 95 Quindi è una storia Telepiu E ho mandato un VHS Ho mandato un VHS A Telepiu In cui tu eri Sei tu che ti sei filmato Io nel laboratorio Della University of Greenwich Ho registrato Tipo le vecchie telecloniche Sudamericane Con sotto il commento in inglese E tu ci andavi sopra Andavo sopra E fra l'altro Il giorno in cui l'ho registrato Alla fine al primo tempo Arrivato il tecnico Mi ha detto Abbiamo un problema Non è venuto niente Ho fatto un caffè Quindi in terra Scozia Ho fatto due tempi e me Tre tempi infatti 135 minuti E il 29 luglio Del 1996 Non c'erano ancora i telefonini I miei genitori erano tornati Vivendo dall'estero Ma erano tornati In quel periodo Quindi stavamo a casa Tutti insieme Io tutte le volte Tornavo più o meno Allora di pranzo Dicevo Mamma ha chiamato qualcuno No Non ha chiamato nessuno Mamma ha chiamato qualcuno Non ha chiamato nessuno E quel giorno Non me lo dimenticherò mai Mia mamma mi dice Non ci chiedi Se ha chiamato qualcuno Ed era Telepiu Un produttore di Telepiu Che aveva sentito La telecronaca Gli era piaciuta E mi aveva detto Potremmo fare delle cose Quindi lì era Uno dei giorni più belli Della mia vita E il pomeriggio Sempre senza telefonino Stavo per organizzare Un viaggio Che poi ho fatto Qualche giorno dopo In Spagna Con gli amici Mi telefonarono Per dirmi che il sabato dopo Dovevo andare a fare Due partite Per Telepiu Subito così Di Ambrocap Sì Io e Marianella Cioè Marianella Facevo la principale Io facevo la seconda E devo dire che insomma Quindi tu hai chiamato i tuoi amici E gli hai detto Sono partito due giorni dopo Ok Gli hai detto Raga io non Sì Devo dire che nel momento Neanche me ne frega Ma ci credo No vabbè ma Una roba incredibile Sì Devo dire E quella cosa è anche un po' Una specie di linea Di demarcazione C'è un prima e un dopo Nel senso che comunque Avevo 22 anni E insomma È stato il momento In cui ho cominciato A pensare al lavoro Cioè È abbastanza Poi ho appena finito L'Erasmus Che è stato uno dei periodi Insomma Diciamo Più intensi della mia vita Ci credo Quanto dieci mesi a Londra Straordinari Mamma mia Vabbè Immagino Tra l'altro Tu cosa facevi Vivevi a Roma Poi E ti sei trasferito Io vivevo a Roma Sì Perché il Pio Non era tipo Cologno-Monzio No no Ma io facevo soltanto Le partite Poi in realtà C'era molta gavetta Perché poi In realtà Loro cominciarono La Serie B Cominciò soltanto Un po' dopo Quindi poi alla fine Ho fatto quelle due partite Ho fatto un'altra Della svolta È arrivata due o tre anni dopo No Un paio d'anni dopo Qualche cosa No no Che avevo cominciato Già dalla stagione dopo Avevo cominciato a fare più partite Più telecronaca E tu tipo alla prima telecronaca Come ti sei preparato Cioè come facevi a sapere Che cosa dovevi fare Al decimo minuto della prima telecronaca C'è stato un palo palo Giuro Nottingham Forest Chelsea Ambro Cup Indimenticabile 4 agosto del 1996 Palo palo E quindi faccio Go No No Ecco Proprio la sfiga Che si è abbattuta Sulla carriera di questo pover uomo E invece poi Massimo Marianella A fine partita Mi fece un sacco di complimenti Mi disse anche delle gol Poi era lì Cominciato un percorso Non si smette mai di imparare E poi comunque alla fine Però divertente E tu avevi dei maestri ispiratori A parte chi poi magari Lo è diventato realmente Però c'era qualcuno A cui tu Beh in quegli anni lì Piccinini è stato L'uomo che ha cambiato Le telecroniche in Italia Questo è indiscutibile In senso che è stata la persona Che è stato il primo A passare dalla frase Lunga ed elaborata Del maestro Bruno Pizzol Che salutiamo Che fra l'altro è Ho voluto fortemente A super tele Con la sua rubrica Perché sentire lui Che commenta gli arazi Vabbè resta comunque Iconico Sono felicissimo Di poter continuare A lavorare con lui E gli voglio proprio bene Anche come persona Mi sono scordato Di fare gli auguri L'altro giorno Adesso non so Questa è andata in onda Però auguri A inizio marzo La sa Bruno è un'altra Una persona meravigliosa È lo zio Che tutti vorremmo avere Quasi come Springsteen Ma una figura come la sua È stata accogliente Con le nuove generazioni Lui di me ha detto Le cose una volta Ha detto una roba meravigliosa Quindi però Insomma sì Ma a me sembra di sì Insomma mi sembra Un uomo in grande pace Col mondo Con se stessa Insomma non è Voglio fare lo psicanalista No 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 Però Sì non mi sembra Che sia assolutamente Popolato Da nessun sentimento Di No perché a volte Cioè allora Quelli grandi veri Sono così Poi ci sono tanti Questa è mia esperienza Personale Che conosci Quelli finti grandi E che in realtà Vedono solo Sono talmente insicuri Vedono solo Il loro giardino Le loro cose Che tante volte Invece non Bisogna Secondo me Godersi la vita Questo è il punto Mondiale del ragionamento Perché se Se ti godi quello che hai Soprattutto Se quello che hai È molto bello Perché poi molto spesso Fra giornalisti In qualche caso C'è la rivalità Ma si fa un lavoro Meraviglioso Cioè io penso Che già poter scegliere Anche in un articolo O in un servizio televisivo Che quindi magari Non è una cosa Così arrapante Come può essere Una telecronica Eccetera Ma già il fatto Di poter scegliere Una parola Piuttosto che un'altra È una forma di libertà Non prendiamo questa libertà No O il fatto di poter Comunque lavorare Su una cosa Che gli altri leggeranno È una forma di successo Io penso Che questa cosa qui Sia bellissima No dicevi prima Su Piccinini Che lui ha cambiato No Sì Picc è stato È stato Paragonistoricamente Negli anni Ottanta O novanta Fino agli anni Ottanta No Metà agli anni Ottanta È stato il primo telecronista Che cambiò il linguaggio Radiocronista In realtà Perché lui faceva In campo con Roma e Lazio Che era un programma Che andava in tv Ma erano radiocronache Perché non c'erano Le immagini delle partite E lui Quindi si passava Dalla frase Che la botta Non va Cezionale Fischi per lui Pubblicità per noi Ecco Ha questa frammentazione Del linguaggio Che poi è stata Diciamo ripresa Da tutti gli altri Poi ognuno ci mette Il suo Il suo carattere Insomma Però c'è stato Un momento Della tua carriera Dove insomma Tu riesci a riconoscere Un momento In cui c'è stato Uno switch Cioè Io lo dico Da spettatore C'è stato un momento In cui tu appunto Eri un Telecronista Come altri E a un certo punto Tu sei diventato Pardo Pierluigi Pardo Tu lo riesci A identificare Questa cosa Io penso Che Sono abbastanza Connotato In tutte le cose Che faccio Cioè Anche per esempio In Tiki Taka In Supertele Faccio una conduzione Secondo me Un po' diversa Dalla normale Conduzione Di un programma Sportivo Televisivo E penso Anche in Telecronica Di fare una cosa Un pochino diversa In certi momenti Poi è sempre Tocco profondo Colpo di testa Palla in fallo laterale Uno C'è capito Cioè alla fine Di quello Stiamo parlando Però Sì Però C'è stata La televisione Il momento dello switch Non lo so Ma Tiki Taka È stato sicuramente Un grande momento Un grande momento Di visibilità Da zone Insomma fare Quasi sempre La partita più importante È un'enorme Forma di visibilità Su questo non c'è dubbio Però insomma No io trovo È stato tutto Abbastanza graduale E Quanto allo stile Ripeto Ognuno ha il suo Io Essenzialmente Sono uno Che se deve fare Una battuta in più La fa Se si deve Prendere un rischio In più Lo prende Se deve Sdrammatizzare Una cosa La sdrammatizza Lo so benissimo Che accade Che stanno Milioni di persone Che stanno lì Soprattutto in certe Partite Anche perché Questo tipo di Telecronica Io la trovo Difficilissima La telecronica Pur lavorando la voce Pur presentando Pur facendo cose Credo che la telecronica Sia una cosa Mega complicata Per cui ci vuole Tutta la preparazione Che hai detto prima Non ci si può improvvisare E soprattutto Sul calcio Tu la vai a fare Sul tema Più caldo Del paese Cioè quello Su cui tu Non puoi sbagliare niente Comunque anche se fai La cosa giusta Sbagli E tra l'altro Da questo punto di vista C'è una grande differenza Fra il campionato E altre cose Per esempio Le partite di Champions Soprattutto delle squadre straniere Sono delle passeggiate Di salute Perché non senti Quei tipo di Perché nessuno sta lì Se c'è un episodio arbitrale Nessuno ne parlerà Cioè Barcellona Paris Saint Germain Che è una partita Dove ancora oggi La gente mi ferma Mi fa Sergi Roberto Sergi Roberto Che finisce 6 a 1 Con una rimonta Pazzesca C'è un episodio Arbitrale Clamoroso Sul gol del 5 a 1 Fosse successo In una partita Fra squadre italiane Sarebbe stato Tutti in piazza Sì Lì invece È diventata La più grande Storia Leggendaria Di una rimonta Nella storia Della Champions Questa cosa è verissima O per esempio I mondiali I mondiali di calcio I mondiali di calcio Hanno solo complimenti Cioè Aprivi i tweet No Sei bravo Inghilterra Croazia Germania Messico Eccetera Poi vai a fare Inter Juve E la gente Cambia Sul pestone Sul fallo di mano Su delle cose Però questa cosa qui Voglio dire Fa parte Della Del gioco Sì Nel senso Che va bene Però tu Che hai vissuto Più periodi In questo caso E anche Gli anni più veloci In cui la comunicazione È cambiata Hai visto cambiare Anche questa cosa qui O è rimasta sempre uguale È cambiato solo il mezzo Allora io trovo Molta differenza Fra la vita reale E i social Ma non perché i social Non siano importanti I social comunque Ti danno Però insomma Molto spesso Sui social Il commento È aggetto Così Distinto Della persona Che magari guarda Una partita O commenta Una situazione Poi in realtà Nella vita normale Non è mai capitato Che nessuno Mi dicesse qualcosa Anzi Sono quasi sempre Persone Che mi chiedono Dediche Pezzi di telecomica Per la squadra di calcetto Quello che ti dice Devi dire a Giuseppe Che ha già vinto Il campionato di fantacalcio C'è questa cosa Delle robe spesso Anche abbastanza Umilianti Però fa anche piacere Perché insomma Sei uno di famiglia Per molti Fa molto piacere Perché comunque Insomma Io penso Che noi siamo Veramente Siamo una comunità Poi chiaramente Ognuno pensa Infatti suoi ci mancherebbe Altro Ognuno ha i suoi figli I suoi amici Però secondo me Sentire un senso Di comunanza Nella passione Che c'è per un gioco Per la condivisione Di una passione Secondo me È una cosa bella È una cosa molto sana Molto normale Questo è un concetto Difficile da spiegare Soprattutto perché poi Nel calcio Tutto è complicato Dalla rivalità Per cui se c'è un derby O sei del Milan O sei dell'Inter Ma in realtà Poi alla fine Il vero tifoso Del Milan E dell'Inter Cioè fra di loro Si assomigliano Molto di più Di quelli Al calcio Non gliene frega niente Quindi dovrebbero sviluppare Mi rendo conto Che è un pensiero Un pochino più Più complesso Di fondo Una sorta di Sympathy Come dite con gli italiani Di solidarietà Di comunanza Perché Perché anche se tu sei Malato di Inter E quell'altro è malato di Milan Però siete due malati Ecco E di una malattia bellissima Di una malattia bellissima Che non ti porterà soldi Che non ti porterà Anzi Magari te li fai Pure spendere Che non ti porterà A niente Ma che Che fa parte Ed è la vera forza Del calcio Perché poi Se tu mi chiedi Ma io questo l'ho detto Mille volte Come gioco Per me Il basket È Come gioco Ah ok Ah sì No questo non lo sapevo Il basket Per me è molto più divertente Davvero Ma sì Io lo penso Su alcune cose Non c'è partita Non c'è partita Non c'è partita La bellezza del calcio Sta nel suo essere Uno sport Innanzitutto Uno sport abbastanza irrazionale Nel senso che poi Nella partita secca Può succedere che la squadra peggiore vinca Nella partita secca Nel campionato lungo No Ma nella partita secca Questo elemento Del fato Del destino Dell'attimo Dell'episodio È particolarmente importante Perché è uno sport a basso punteggio Quindi uno sport a basso punteggio Basta un attimo Cambia tutto E poi Questa cosa che il calcio è È tutto Cioè si prende tutto E A me piace molto Vedere Il pubblico Mi piace molto Vedere le facce delle persone Durante le partite Mi piace molto Quando vengono mostrate Poi chiaramente Ritroi un equilibrio Perché la cosa fondamentale È far vedere il gioco Però Secondo me raccontalo molto Della società Eccetera Il basket Questa cosa Perché è il vero tifoso Dell'Olimpia Della Virtus Di Varese Di Pesaro Sicuramente C'ha lo stesso tipo di Di sentimento Però è chiaro Che la dimensione complessiva È molto inferiore Quindi secondo me La forza del calcio È questo diventare Mille cose insieme Poi la bellezza Gli stadi L'atmosfera Cioè È una Una roba Meravigliosa Però se mi parli Proprio del meccanismo Del gioco Se il vero del gioco Per me il basket È più divertente Non c'è mai La follia È No Ma no Perché poi io Il calcio lo vivo In maniera molto Cioè Vedo un sacco di partite Quello sì Questo È una forza La follia No ma Poi devo dirti D'estate D'estate Quando cominciano i campionati Arrivo a dei livelli Dipende Se non sto in giro Per il mondo Ovviamente in vacanza Ma veramente Mi guardo pure Non so San Paoli Augsburg Certo Ah beh Cioè Sì Ne ne guardo tante Quindi la follia è questa Guardarsene tante Con grandissimo Con grandissimo piacere E È abbastanza indipendentemente Dalla Dall'importanza Della rivelanza Della partita Per esempio Mi manca Adesso può sembrare Una cosa Mi manca molto Andare a fare Quelle partite Di serie B Che facevo Quando ero Ragazzo Che Un po' di anni Non faccio più Però mi piace Quell'atmosfera Lì Quei sabati pomeriggio Col sole A Pisa A Palermo A Modena Cioè È bellissimo Il calcio è un'emozione Da questo punto di vista Gigantesca È proprio L'aspetto scenico Del pallone E l'effetto Che ha sulla vita Delle persone Che lo rende Che lo rende Meraviglioso E tra tutte le partite Che hai visto Tu riusciresti a identificare La più bella Della tua vita Che hai visto Per Non Per dei fattori Anche tuoi personali Non lo so No Beh Allora Io sicuramente Ho avuto la fortuna Di raccontare Tante partite importanti Devo dire che Gli addii al calcio Sono qualcosa che mi resta Cioè io ho fatto Per esempio L'addio di Del Piero L'addio del Piero È stata una cosa Perché a un certo punto Io facevo la telecomica Della partita Ma della partita Mi rafferava più niente A nessuno Quindi Diciamo che L'aspetto accessorio Era diventato Quello principale Che era questo giro Del Piero Di campo E la stessa cosa Ovviamente E ho pianto Come un bambino Sì Ma questo vale ovviamente Per Totti Vale ovviamente Per Avezzanetti Anche la partita Di addio di Avezzanetti Avevo fatto La telecronaca Sì Quelle cose lì Oppure Chiaramente Insomma Quando annunci Uno scudetto Quando annunci Le grandi partite Insomma Le grandi partite Sono bellissime Quest'anno Sono state Le partite È stato un campionato Chiuso Chiuso Però la grande bellezza Del Napoli Secondo me Ha più che compensato L'equilibrio Che è mancato Nello scorso È stato un campionato Dal punto di sé L'equilibrio Ovviamente Divertentissimo Poi chiaramente I milanisti Sono stati più contenti Degli interisti Però È stato un campionato Che si chiude All'ultima giornata È merce rara Quest'anno È stato un po' L'esatto contrario Però la bellezza Del Napoli Alcune partite Del Napoli Sono state veramente Che poi tu l'avresti detto A inizio stagione Che sarebbe andata così No Il Napoli sembrava Abbastanza un outsider Però ha fatto tutto bene Ha fatto tutto Meravigliosamente bene È proprio un esempio Di programmazione E di sapienza tecnica Devo dire Impressionante Ma tu credi Che sia però Questo il periodo In cui Al di là Che ovviamente C'è una squadra Che vince Cioè è un momento strano Questo Perché da una parte Sembra come se sia Uno dei momenti Storici In cui ci sia Magari meno appeal Per quanto riguarda Il nostro calcio Il livello tecnico Qualitativo E c'è Poi in realtà Vai a vedere Adesso nel momento In cui stiamo facendo Questa chiacchierata Ci sono tre squadre italiane Che vanno avanti in Champions E infatti lo diciamo Questa chiacchierata È registrata Esatto Qualsiasi cosa succeda Non sappiamo Priva dei quarti Di finale delle coppe Ma guarda Io penso che noi siamo Sempre un po' Come italiani Ci piace piangerci addosso Siamo sempre un po' Esagerati Nel bene e nel male Io penso che il calcio italiano Si è in crescita Negli ultimi anni Rispetto a qualche anno fa È sicuramente migliorato Quest'anno lo vedo molto bene Vedo delle squadre Ho fatto recentemente Due partite della Juve Con il Friburgo La Juve è benissimo Il Friburgo è una squadra Che per me è in Italia Ed è terza in Germania Sempre in questo momento È una squadra che in Italia Sarebbe Nona Decima Cioè vale Con tutto rispetto Se non vale il Torino L'Udinese La Fiorentina Al Sassuolo E Bologna In quella dimensione Lì se la gioca Secondo me queste squadre Che ho detto Potrebbero battere il Friburgo Che è terzo in Germania Quindi Secondo me Secondo me Negli ultimi anni Sono successe altre cose È tornata Milano Sono tornate le due milanesi In maniera molto forte Le romane Non se ne sono andate Poi magari non riescono A vincere il campionato Però sono comunque Molto competitive Il Napoli Ha creato un modello di successo La Juve Comunque è sempre competitiva Anche se non è più La squadra dominante Quindi Si è creata una concorrenza positiva Con meno soldi E gli inglesi Però secondo me Ne stiamo anche buttando di meno Poi in generale Questa cosa qui Deve però Non illuderci Nel senso che Non è che siccome Un anno L'italiano vanno bene Anche magari Con qualche sorteggio Fortunato nelle coppe Che ci dà un'ulteriore mano Ma insomma Comunque andiamo bene Non è che Siano risolti i problemi I problemi sono Ovviamente strutture Cioè Alla lunga Tu devi avere Meno burocrazia Stadi di proprietà Devi essere Molto più Devi avere Molto più a pilla E devi avere anche Dei giocatori Che sono Come dire Sempre di più Sembra che ci debba essere Il giocatore Simbolo Il giocatore Che viene Cioè ormai Sembra Succede in tutti gli sport Non solo nel calcio Ormai c'è il tifoso Del giocatore Il tifoso del giocatore Non più il tifoso Ma guarda i bambini Adesso Diego è ancora piccolo 9 mesi Non so Anche se devo dire Che Con la parla del basket Se la cava bene No però Ormai ci sono i bambini Che sono tifosi Di Messi Di Cristiano Ronaldo Di Holland Di Mbappé Certo però Per avere quei giocatori lì Devi avere soldi Da noi Secondo me una cosa interessante Che è successa negli ultimi anni Che abbiamo trovato comunque Dei giocatori Magari un po' in avanti Con l'età Che però Sono stati attratti Comunque Dai brand Del calcio italiano E stanno facendo cose importanti Giroud ha fatto cose importanti Di Maria Sta facendo cose importanti Dobbiamo chiaramente Ritagliarci Con il nostro budget Che non è quello degli inglesi Degli spazi di crescita E secondo me Anche per i giocatori Cioè anche per i giocatori italiani Che magari partono Certo Da chiesa Ad altri Lì non siamo messi male Abbiamo un po' Un problema davanti L'ha detto anche Mancini Nel senso che La parte immobile Non ci sono Insomma Ma secondo te Non c'è O non si è dato lo spazio Per far giocare Questi Possibili nuovi talenti Secondo me Allora Siamo un paese conservatore Questo non c'è dubbio In tutto In tutto Non soltanto In tutto In tutto proprio Un paese dove a 50 anni Sei giovane Esatto E io sono anche 49 Quindi Una grande figara Anzi Sottolineo Almeno fino ai 60 Dovrebbe essere considerati Teenagers No però Quindi questo è un aspetto fondamentale Della nostra storia Della nostra cultura Detto questo Poi chi è forte gioca Non ci sono grandi dubbi C'è un Nulland Non è che riuscivi ad arginarlo No appunto Esatto Quindi E poi Quest'anno per esempio Alla Juve È successo che Con tutti i problemi Che hanno avuto Al punto di vista fisico Hanno lanciato Una generazione di giovani Interessanti Quindi Di necessità virtù Bravo A fine successo Bravo Ora mi è venuto così Al volo Ma Invece è vero che Una partita di calcio Cioè Che il vedere Tu che ne vedi tante Una partita di calcio Oggi Di calcio italiano È meno spettacolare Meno divertente Rispetto ad un'altra partita Questo secondo me È proprio un luogo comune Forse sono fortunato Perché chiaramente Faccio quasi sempre Partite importanti E quasi sempre Partite belle Però secondo me Non è così Secondo me Non è così La qualità del Napoli Quest'anno È stata strepitosa Il Milan La squadra degli ultimi anni Ha giocato bene La Juve Si dice Dicono che giochi male Sicuramente Allegri Non è che stia producendo Diciamo Nuovi Manuali Teorici Di calcio Però Non gioca male Non è una squadra Che si può dire Secondo me in assoluto Che giochi male E La Lazio gioca Abbastanza bene Insomma Sarri Quando la squadra Lo segue Quando lui riesce A farsi capire Secondo me Non sono d'accordo No Non c'è un Non c'è un livello Secondo me Così basso E Secondo me È più di spettacolo a volte No Se tu guardi una partita Di Premier O C'è un altro gioco C'è un altro passo Gli stadi sono stupendi Perché non ci sono le recinzioni Perché c'è il pubblico C'è mille aspetti Straordinari Perché magari vedi una partita E finisce 4 a 3 Per dire Rispetto magari a un'italiana Anche da noi ci sono belle partite Io guarda Non trovo che ci sia tutta questa differenza Cioè se vuoi abbastanza È abbastanza un luogo comune Poi Certe vette Raggiunte Dal City In certe partite O dal Liverpool Di Klopp Negli anni d'oro Sicuramente sono Sono irraggiungibili Per il nostro livello Ma Insomma Secondo me Negli ultimi anni Noi siamo Siamo cresciuti Stiamo Partendo dal nostro budget Che non è il loro Stiamo facendo delle cose Pian piano Per me la qualità Tanto per essere chiari Siamo sempre prima dei quarti Di finale di Champions League La qualità ad oggi 20 marzo Che ha espresso il Napoli Quest'anno in Europa Non l'ha espressa nessuno Non c'è una squadra Che gioca bene come il Napoli E questo è figo Perché poi i risultati In tanti casi si vedono C'è l'entusiasmo Si riporta tutta una serie di Insomma Il brand acquisisce valore Il brand Italia Di nuovo in tutto il mondo Quindi questa è sicuramente Una cosa bella Anche il brand Napoli Assolutamente Sono un grande simpatizzante Della città Trovo che Napoli Sia veramente È una cosa meravigliosa E molto spesso Insomma è una città Che è vittima Nel bene e nel male Degli stereotipi Che gli si creano attorno Ma è veramente Un posto magico Un posto bellissimo Sì poi il calore Che c'è attorno alla squadra È stato recentemente È incredibile Vedere cosa succede In ogni angolo Beh quello è un elemento Fortemente identitario Perché diciamo È la più grande Fra le città italiane Come una sola squadra Quindi è chiaro Che insomma La passione è tutta convogliata lì Mentre insomma A Milano A Roma A Torino Ci sono due squadre E la città Insomma è uno dei posti Più belli del mondo Ma proprio per distacco Tra tutti invece I personaggi I giocatori Che hai incontrato Conosciuto Qual è quello che ti ha colpito Di più Nel tuo percorso Il mio eroe Si chiama Tony Adams Che è stato il capitano Dell'Arsenal Ed è stato Poi insomma Protagonista Di storie di alcolismo Che ha anche raccontato E mi ricordo Che in un'intervista Che gli ho fatto Tanti anni fa Per lo sciaculato Di Giorgio Porrai Tempi di Sky C'era questa tradizione Che si partiva dal libro Che aveva scritto E lui doveva leggere Qualche riga Io avevo preso Tutte delle parti emozionanti Quindi glielo proposte Una Poi gliene propongo un'altra Poi gliene propongo un'altra E lui E lui non ce la faceva Non riusciva Non riusciva Perché evidentemente Era troppo emozionante Per lui E quindi poi L'unica cosa Che riuscì a leggere Con molta fatica Erano le ultime righe Del libro In cui diceva Mi devo ricordare Che l'alcolismo Può tornare Quindi una specie Di frase Adesso sta molto bene Insomma Adesso ho fatto anche Il ballando con le stelle Di là Ah sì Non so se questo sia Un buon segnalato Però lui è stato Veramente un po' Il mio eroe Perché era Grosso Tecnico Gli avversari Lo prendevano in giro Un buon giocatore Un buon giocatore Di Proprio di cuore Di anima E Ho intervistato Hamilton Qualche anno fa E mi ha Molto impressionato Una grande Ho visto una grande Intelligenza Devo dirti che Ambro Massimo Ambrosini È un grande compagno Di Di telecronaca Di scene post telecronaca Di Concerti di Springsteen E quindi Per dirti Ambro È sicuramente Un personaggio Interessante Poi mi piacciono Molto gli allenatori Sicuramente Mi piacciono Ovviamente Molto gli allenatori Perché De Rossi De Rossi Secondo me Anche se Non so mai riuscire A intervistarlo Però mi dà l'idea Di essere un calciatore Comunque con un pensiero Con una testa Ma guarda Comunque Il livello Anche lì È uno stereotipo Vuol dire che i calciatori No Uno pensa che i calciatori Si occupano solo di macchine Però ce n'è qualcuno Che è un po' più predisposto Dove dire Come tutte le cose Come tutte le cose Della vita Però tu devi pensare Che O nella carriera stessa Che è una situazione Ovviamente da privilegiati Perché vent'anni Un sacco di soldi Un sacco di attenzioni Un sacco di privilegi Per carità Nessuno Dice che siano Però anche tanta pressione Questa cosa Secondo me Serenamente Uno deve considerarla Nel senso Che qualsiasi cosa fai Qualsiasi frase dici Qualsiasi pallone sbagli Rischi Quindi è una vita Continuamente in copertina A vent'anni Non è facile Insomma Secondo me Affrontarla Detto questo Chiaramente La vita La privilegiati La fortunati Ci mancherebbe Altra gente Guadagna mille euro Il mese Si spacca Il fatto di Appena uno dice Una cosa di questo genere Il commento Poi medio È sempre questo Si fa fatica A empatizzare Con un calciatore Rispetto Con un'altra persona Bisogna avere Ovviamente Grande rispetto Sono io il primo A dirti Che ovviamente Sono dei fortunati Dei privilegiati Eccetera Però Nella vita Di uno sportivo C'è un elemento Di stress Di tensione Di solitudine Mi vorrebbe a dire Questo non autorizza Neanche a insultare Come fanno tanti Sui social O dal vivo Addirittura Che quella è una cosa Ancora ben peggiore Succede Quindi io ti dico Ho trovato un sacco Di calciatori interessanti E secondo me Un po' è anche La comunicazione E da questo punto di vista Devo dire che Il lockdown Quindi quel momento In cui improvvisamente Tutti hanno cominciato A fare appunto Live Perché Questi sono spazi Nei quali sei molto più rilassato Non vai a caccia Del titolo Dello slogan Cioè un po' E anche Siamo un po' anche Noi giornalisti Che siamo sempre A caccia Dello slogan Della polemica E per carità È il lavoro Non è che Ci sta Il giornalista Deve trovare Delle cose Che siano interessanti E le cose interessanti Sono spesso Le cose che polarizzano Che dividono Sì a volte adesso La differenza è che Qualcuno rende interessante Che è una cosa Che c'è Si va a mettere Un titolo Un virgolettato Che magari Non è quello vero Io vi dico Che da questo punto di vista Ho un po' un problema Nel senso che Molto spesso Mi sono reso conto Che forse Non è neanche poi La cosa migliore da fare Che con i miei ospiti A Tikitaka Supertele Pensando a Antonio Cassano Quando veniva da me Quasi andavo in protezione Nel senso che Se c'era una frase Che in qualche modo Poteva essere equivocata E che io sapevo Che non era Che poteva non rispondere A quello che in realtà Uno Aveva detto Insomma Cercavo quasi di recuperare Cioè gli lanciavo Quasi una scialuppa Sì che è il contrario Di quello che farebbe uno Perché quella roba lì Ti fa numeri È un fatto di car Sì però Ti fa numeri No no ma sono d'accordo Però penso anche Che se poi tu sei uno corretto O poi se uno vuole dire una cosa Perché la vuole dire La vuole argomentare Si assume No però strumentalizzare È un altro discorso Però molto spesso Ci sono quelle cose borderline Di quelle frasi Che è lì Devi decidere Da che parte stare Per me c'è da un lato Un interesse Per la Tra virgolette Per la verità E anche per la qualità Della cosa che stai facendo Cioè se uno dice una frase Che questa frase È equivocabile Fammi capire Veramente Che cosa vuoi dire Il senso Che se veramente Vuoi fare quella polemica Benissimo Falla Ci mancherebbe altro Ma se invece Ti è uscita un po' male Allora Secondo me Però ti capisco Perché qui mi sta succedendo Una cosa simile Nel senso Che vengono molti ospiti Che magari Cioè lasciandoci andare Chiacchierando con me Noi magari raccontano Anche qualcosa di molto Importante Intimo Cioè che preso Decontestualizzato Usato per dei titoli E delle robe Farebbe un botto Però qua è come se tu In questo momento Stai venendo a casa mia Sostanzialmente Io con il tuo programma Succede la stessa cosa E cavolo mi sento Cioè non lo farei mai La decontestualizzazione È proprio un tema Esatto Il prendere la frase Il decontestualizzare È proprio È proprio una cosa sbagliata La cosa non va fatta Ma non è che non va fatta Perché Non va fatta perché Non è Non è la verità Non è la verità Nel senso Capito Quindi La tendenza è stata questa Andare spesso in In protezione Dei miei ospiti Perché Perché appunto Molto spesso Può succedere la frase Che può essere equivocabile Allora per chiarità Se uno una cosa la pensa La dice La vuole dire Benissimo Sono giornalista Quindi voglio dire Se uno dice una cosa interessante Anche una cosa divisiva Anche una cosa che farà incazzare qualcuno Nel mio programma Benissimo Cioè è chiaro che è un'opportunità quella Ma se la vuole dire Se invece è una frase Che rimane lì a metà E che si può prestare Una strumentalizzazione Mi dispiace Sì Sì Ma hai citato Tiki Taka Cos'è stato per te Nella tua vita Quando è arrivato Perché Io ricordo Ti parlo sempre Da spettatore Da ragazzino In alcuni casi Che tornava a casa E ho citato Piccinini Prima per me Controcampo la domenica sera Dopo il posticipo Era un appuntamento fisso Con Mughini Con i personaggi Con lui Che diceva le sue frasi claim Eccetera E per un po' Poi è successo qualcosa Mancava quella roba lì Dove Tu sapevi che stavi andando A ascoltare un po' Di pareri Di opinioni Eccetera Poi Cos'è successo Beh è successo Una bella cosa Nel senso che Io sono andato a Mediaset nel 2010 Perché mi chiamò Sandro Piccinini Per andare a fare Essenzialmente le teleclonache E io ero andato lì Per fare quello Poi lui doveva fare un programma Ma non so Non si sono messi d'accordo Non mi andava più di fare Si chiama Premium Football Club E quindi ho cominciato Ma veramente Non sapevo da che parte cominciare Nel senso che io non ero un conduttore Ero solo un telecronista E eventualmente un inviato E dopo un paio d'anni Si creò uno slot su Italia 1 Devo dire che all'inizio Noi siamo stati fortunati Perché poi sai La televisione Bisogna riconoscere I primi mesi c'era Non mi ricordo se è colorato o zeli Mi pare colorato Insomma avevamo un buon traino E questa cosa secondo me Nei primi 3-4 mesi Di Tiki Tagga del primo anno Ti parlo del 2013 Ci aiutò Bisogna essere onesti Nel senso che Il traino Seconda serata Non ti dico che è tutto Ma è molto Poi il programma ha preso Secondo me Una sua grande forza Una sua identità L'idea Secondo me È quella che c'è adesso In Supertele Quindi è l'idea Di mettere insieme Opinionisti Più strettamente tecnici In quel caso Chiaramente Dovendo fare un programma Sulla generalista Sulla generalista Devi avere il tifoso Dell'Inter Del Milan Della Juve Eccetera In altri contesti Puoi anche essere Puoi anche fare una puntata Della Juve Della puntata Della Juve Non devi fare per forza Ogni volta tutti Però soprattutto A Tiki Tagga Sono passati tutti Ecco L'orgoglio Che fa la stessa cosa Di Supertele È che vengono tutti E vengono tutti A parlare di pallone In una maniera Sorprendente Io ho avuto Nella prima puntata Di Supertele L'anno scorso Pupia Vati Che ha fatto Una dichiarazione D'amore A Pioli Pupia Vati E quando i vari personaggi Che sono intervenuti Da noi Da una marea Da Bocelli A Carlo Conti A Bonoli Veramente a Giovanotti E poi mi mandano i messaggi Che quasi mi ringraziano loro Massimo Chini Grazie mi hai fatto parlare Col mister Gabriele Corsi Che è della Lazio Con Sarri Ho fatto la domanda Sulla razialità Cioè Vedi un livello Di passione Di emozione Che è veramente Straordinario E' chiaro che Nel post partita Non è semplicissimo Perché c'è tutta L'adrenalina Magari c'è l'allenatore Che è un po' più Incazzato Quello che è un po' più felice Però questa idea Della contaminazione Era l'idea di Tivitaka Che devo dire Si è costruita Però la forza è quella Di uno sport Che riesce a essere Cross Quindi riesce ad andare A intercettare anche altri mondi Sì perché Sinceramente A me di fare il programma Ma lo dico con Grande rispetto di tutti Fare il programma Solo di calcio Con L'interista Lo Juventino Per carità Va benissimo Quanta è durata L'avventura di Tivitaka Durata sette anni Sette Sette E L'anno migliore È stato tra l'altro L'ultimo In punto di vista Di ascolti E Nel 2020 Ma c'è stata Poi c'è stato il lockdown Poi insomma Era un po' stanco Anch'io Io sono uno Che tendenzialmente Si annoia Si stufi dopo un po' Sì Nel senso che credo Sì Mi stufo Che poi la forza A volte di questi programmi È durare tipo Venti anni Sì No ma sicuramente Ma fatti Magari Però cambia Nel senso Questi anni è cambiato Anche tanta la comunicazione Le piattaforme Tu lo sai bene Cosa è successo Secondo te Cosa sta succedendo Nel mondo del calcio Allora la mia unica Piccola rosicata È che Insomma Siamo andati molto molto bene In anni in cui Spesso il campionato Era finito Qualche anno Poi c'è stato anche L'anno Juve-Napoli C'è stato un anno La Roma molto bene Ma essenzialmente Io ho fatto Tichitaka In sette anni In cui la Juve È stata sempre Campione d'Italia E in due o tre circostanze Diciamo che a novembre Ha già vinto il campionato Quindi Quando penso A questa stagione Con le squadre italiane In Champions O alla stagione scorsa Avresti avuto Seconda o terza puntata Dell'ultimo anno Di Tichitaka A un certo punto C'eravamo inventati Questa formula Con Alberto Brandi Con tutta Del Siamo solo noi Perché avevamo Vieri e Cassano Che non facevano ancora La Bobo TV E a un certo punto Facevamo Abbiamo fatto Vieri e Cassano Una volta c'era Van Basten collegato Una volta c'era Buffon collegato Una volta c'era Zanetti collegato Ma anche se non c'era Un altro grande ospite Collegato Io facevo cinque minuti Con loro E facevo Siamo solo noi Quella cosa lì Era il 2019 Quindi era Prima del Purtroppo L'andemia Del lockdown Poi di fatto Quel modello Di disintermediazione È diventato Un modello dominante In qualche modo C'era già Players Tribune Che tu conoscerai C'erano già degli esempi Che andavano In quella direzione lì Una direzione pericolosa Perché rischiamo Noi giornalisti Non dobbiamo fare No scherzo In realtà invece Secondo me Un lavoro di raccordo Giornalistico È molto importante Perché sennò Secondo me È troppo anarchico Sì sì Ci vuole un qualcosa Che certifichi Una credibilità Ma più che la credibilità Perché è tazzo Ma anche un calciatore Che ha fatto Cinquecenti E' credibile Per definizione No però Secondo me ci vuole più Un fatto di una cuscitura Registica Dei temi Degli argomenti Secondo me è più Quello Però quella cosa lì Fu molto forte Quella cosa di Vieri Cassano Che infatti Quando non c'era A fare la Bobo TV Insieme Che comunque È un linguaggio È un successo È un successo incredibile Proprio perché Però quello che fanno Poi alla fine Loro è anche un po' Ricreare quel salotto Di cui parlavamo prima Magari non c'è Magari non c'è il tifoso O meno Però c'è l'appassionato Più dichiarato Di una parte dell'altra Ci hanno dei ruoli Ben precisi Hanno cambiato letteralmente Come altre cose Ma perché poi Da una parte Il futuro Va un po' In quella direzione L'altra cosa clamorosa Che è successa Che ti posso dire Io a livello televisivo Con Supertele È che la tv È diventata radio Nel senso che Fino a prima del lockdown Tiki taga Chi vogliamo avere Come ospite Proviamo a sentire Galliani I calciatori I dirigenti C'hanno sempre la cosa Vengo se Però non perdo Quindi tu stai lì Che guarda Che sei partito Sul live score All'ottantottesimo Quel che settimana facciamo Close Che allena una squadra In Austria Vengo se non perdo La sfida contro l'ultima In classifica Segnano 1-0 Messaggi in chat Vai è andata Hanno perso 2-1 E quindi non è venuto Close Ma lo recupereremo Ok Quindi c'è sempre Questo elemento Di scaramanzia Degli allenatori Insomma che vengono Quasi sempre Quando le cose vanno Bene O comunque decentemente Insomma se non Se non c'è stata Una tragedia sportiva Il giorno prima E fino A lockdown Fino quindi a questo mondo Nel quale improvvisamente Tutti hanno cominciato A fare dirette La gente ha cominciato A conoscere zoom Meet Eccetera eccetera Per fare un collegamento Ve ne amo Alberto Brandi Yves Insomma tutte le persone Da redazione Piantanita Boni Persone con cui lavoravo Chi vogliamo provare a fare E mandavi una fly Mandavi uno zainetto Cioè dei mezzi tecnici Che sono perfetti Ma che chiaramente Significa che tu lo decidi Prima Sì sì Ha un costo Sì ha un costo Perché Non è un problema Per media O per qualsiasi televisione Però comunque È una cosa Che tu decidi di fare E la decidi Con una programmazione Oggi A Supertele Io ho degli ospiti Che delle volte Vengono decisi Casualmente Cioè Max Pezzali Mi manda un messaggio Da Miami Dopo il derby d'andata Fra Milan e Inter E gli dico Ma dove sei Sono a Miami Ma l'hai vista La partita Sì l'ho vista Corro Oppure Corro in albergo A che ora è Va bene Cioè è così Quindi è una dimensione Questo significa Quindi una cosa Molto più informale E molto più destrutturata E sicuramente Avendo una buona agenda Questa cosa Mi ha dato anche un vantaggio Nel senso che Sicuramente Siamo riusciti ad avere Gli ospiti Che magari Qualche anno fa Non avremmo avuto Magari non ci avremmo neanche pensato Sì 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 Invece questo Sicuramente questa cosa Ha ampliato tantissimo È bello vedere Anche come Cambino le cose E in qualche modo Si aprono degli orizzonti Perché quello che stanno facendo Con la Bobo TV Hanno aperto Totalmente Un orizzonte Tu cosa ne pensi Di quello che fanno Di quello che fanno loro Io penso che loro E ti ripeto In qualche modo In quel siamo solo noi Non voglio fare Pippo Baudo No 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 Però era un po' Hanno fatto tutto Loro insieme Sono stati bravissimi Cioè sono cose Che possono convivere Sì Sì penso di sì Poi è chiaro Adesso ce ne stanno Cento di questi format In giro Però su alcuni vincono Sì non so quanti Non sono un grande fruitore Sinceramente No 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 Perché io essenzialmente La sera vado a cena O guardo partite di basket O di calcio Quindi queste sono Le mie attività prevalenti E no a parte tutto Quindi Però lo sono stati bravi Sicuramente sono stati bravi Ma questo elemento Della disintermediazione Secondo me È una figata C'è Totti Che parla con A Via Zanetti Si fanno la battuta No quella è una roba Che tutti impazziscono È veramente la cosa Che funziona di più Perché ci porta È come se ci portassero Nel loro spogliatoio A condividere Quel tipo di emozione Hai citato prima Cassano Che ovviamente fa parte Della Bovo TV Che è anche tra quelli Un po' più discussi Tu c'hai scritto Due libri Mi sembra È stato il mio testimone di nozze Tuo testimone di nozze Ma è andato benissimo Non c'entra Non è colpa di È andato benissimo Perché io vorrò sempre bene A Simona Quindi abbiamo Un bellissimo rapporto Però è finito Come ho molte cose della vita E Antonio è un fratello Un amico per me Cioè non c'è discussione Anche lì Io quando stava da me Tendevo ad andare un po' In protezione con lui Cioè cercavo di fargli capire Una cosa del genere Se la vuoi dire Dilla così Perché secondo me Se la dici così La dici uguale Il messaggio arriva Ma non ti esponi A bere critiche Adesso va un po' più libero Un po' più selvaggio Un po' più al bar Ma è anche il suo bello Insomma voglio dire Antonio è uno È uno Un entusiasta Distintivo Credo che Si sia abbastanza capito Quando la sparo Dice il suo pensiero Che poi È anche condivisibile In alcuni casi Secondo te Poi lui va a vedere Cioè è uno È uno che caratterialmente Cioè non lo fa Lui lo fa proprio spontaneamente Sì 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 Lui lo fa spontaneamente È chiaro che qualche volta Va in contraddizione Tra un momento e l'altro Nella sua vita Perché cambia idea Come è normale Che tutti si possano cambiare idea Il mio consiglio con lui È sempre stato Dillo Ma in maniera Un filo più sfumata Ecco solo questo Ti è capitato anche In questi ultimi anni Di dargli qualche consiglio Di questo genere Ci sentiamo ogni tanto Ci sentiamo a padel Lui mi insulta È forte il mio padel Sì più che altro Non fa altro nella vita Cioè parliamo Antonio Eh voglio dire Ci esiste pure È forte Si è preso bene Diciamo che Gli è piaciuto molto Ma sai il padel Per gli ex calciatori È un sport divertentissimo Sì molto Anche lì Senti delle volte Degli snobismi Nei confronti del padel Io li accetto Da chi ha fatto almeno Un primo turno A Indian Wells Se tu hai fatto Capito Se sei stato un classificato Allora puoi dire Se Pietrangeli dice Che il padel È uno sport Da pippe Pippe Gli ho detto pippe Vabbè Pietrangeli Lo vuoi dire Perché è uno dei più grandi Tennisti italiani È molto divertente È molto divertente È uno sport Che ti porta subito dentro Sì È uno dei due sport Che ho provato Gli ultimi anni L'altro è il golf Che è un po' L'esatto contrario Sì un po' più esclusivo Sì ma non è tanto Il discorso No non dico di golf Proprio come gioco È proprio un viaggio Dentro te stesso È come andare Allo psicoanalista A giocare al golf Nel bene e nel male Sì anche perché È un'esperienza Da un lato Che ti riempie di vita Di verde Di bellezza Di silenzi È una cosa E dall'altro però Se lo affronti Soprattutto quando sei scarso Ma no in realtà Anche se sei bravo È un percorso psicoanalitico Dentro di te Perché Perché ti Ti porta a capire Delle cose che forse sai Per esempio Che più cerchi il colpo E meno ti viene Sì Cioè più metti la forza Nello swing Io lo trovo difficilissimo No ma è difficilissimo È ipertecnico Le differenze sono infinitesimali Cioè fra un colpo Riuscito bene Un colpo riuscito male Alla fine si va a vedere La differenza Di movimento è minima E quindi E poi giochi sempre Con te stesso Giochi sempre contro te stesso E con il campo Quindi hai Puoi andare a giocare È molto bello Perché puoi giocare Con giocatori forti Potete andare insieme Cioè Giochi In dei campi Che sono i campi Dove giocano i professionisti A Roma A Roma c'è Marco Simone Che è il campo della Ryder Cup Quindi la gente gioca Sulle buche del Ryder Cup E potrà capitare Magari una volta Che fai Che fai un par Perché riesci a fare un par Quindi fai il percorso regolare È come giocare a San Siro E fai un gol a San Siro Una presa a calcetto Con i tuoi amici Sì Ma con Più il fatto che non c'è L'avversario tecnicamente Esatto Sì 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 Quindi Quindi fai una cosa Che magari Una volta lì Il professionista Sbaglia e fa peggio di te A Padre con chi giochi Di solito A Padre gioco con tutti Questi amici Gigi Di Biagio Dario Marcolin Anche Dario è forte Sì Beh io ho ancora Partito in sospeso Ti inviterò a Padre il farm Che devo farti Come si chiama L'epicondilite Non so Per la prima volta Ma è un chiaro segnale Della vecchiaia No no Che stai facendo sport E che va bene Va detto Invece in tutto questo Un'altra cosa Degli ultimi anni Che è molto bella Che ti riguarda Quando sei entrato Nella musica Nella scena indie Italiana musicale No ma io faccio Delle cose Cioè Sono entrato Ho seguito No è bello Insomma Tante volte Ti si vede al piano Canti Cioè Sei sempre stato Un appassionato di musica Sempre Perché hai fatto Delle citazioni Io mi sono imbattuto Mi sono imbattuto In Edo Calcutta Mi sono imbattuto Nei cani Quindi Niccolò Contessa Che magari non tutti conoscono Ma che è stato E che ha regalato Soprattutto delle perle Incredibili Mi sono imbattuto Ovviamente In Tommaso Paradiso Anche lui Siamo grandi amici Mi sono imbattuto Nei Comacose Quando i Comacose Non li conosceva nessuno E quindi Manca Zanzircus Ovviamente Vasco Brondi Quindi Insomma Ti hai sempre pensato Un certo Mi ricordo Forse erano dei giornalisti Vabbè eri proprio Sotto cassa Felicissimo Che cantare Poi lì c'è anche L'elemento dell'amicizia Devo dire Sia con Edo In Calcutta Che con Tommaso C'è proprio Si va ai concerti Si va insieme prima Si mangia Si beve Si va nel backstage Cioè è chiaramente Sono amici Ma lì come è nato Il primo contatto Ad esempio Con Tommaso Paradiso Tommaso Credo che venne a Tikitaka Io ancora Non lo conoscevo bene Non credo che Avevo sentito qualche canzone Ma non ero Non ero così addentro Lui è venuto Tommaso è proprio un amico Nel senso Tommaso è proprio un cucciolo Una persona Quindi il nostro rapporto Certamente mi piacciono Le sue canzoni Le sono tutte a memoria Eccetera eccetera Ma è proprio Che ci vogliamo bene E poi Quindi questo sia Per quanto riguarda lui Che per quanto riguarda Edo I Coma Cosa Invece li ho sentiti E devo dire Mi sono piaciuto dire subito E vedere insomma Che poi fanno successo E beh infatti Poi in strada È molto bello Prossima vita faccio il Talent Scout Sì dovresti prima Un'etichetta discografica Pardo Music Vorrei che Niccolò Contessa Tornasse a fare delle cose I cani sono stati Una cosa Una parentesi È tutto un po' romano Ma non soltanto Però sono chiaramente Un po' romano centrica Come cosa E sono I tre album dei cani Sono meravigliosi Tanta roba Tanta roba Un'altra cosa che hai fatto Molto bella E che gli appassionati Di videogiochi Come me Amano Il mondo dei videogiochi Tu hai fatto telecomica D'altro per più Prima quando tu dicevi La svolta Io non lo so Però ecco I videogiochi FIFA Soprattutto Io ho fatto PES Per qualche anno Credo dal 2008 Al 2014 Cioè Poi sono passato A FIFA Ecco FIFA Onestamente È una È una cosa Che mi rendo conto Mi rendo conto Che insomma Ho giocato pure Cioè Veramente FIFA Vale È una cosa gigantesca Cioè i bambini Dai bambini Sei anni Fino agli adulti Fino anche A dei presidenti Del consiglio Che ho battuto facilmente Una partita Fra l'altro Con un rischio Perché Ebbè Batti un presidente Del consiglio Io di solito Bravo Però Schiena dritta No ma poi ho battuto Tanto Tanto a poco Umiliato Quindi C'è un miracolo Io sia ancora qui Esatto Però avrò apprezzato Il fatto che tu Non ti sia piegato Al potere Io ho puntato tutto su questo Comunque sì Siamo qua No Devo dire che FIFA È stato sicuramente Un grande Un amplificatore Sì Bello quello Ti ricordi Lì cosa fai Lì Non è che tutti gli anni Ecco Lì Quella cosa un po' Me la sono chiesta Prima mi chiedevi Il modo diverso Di fare delle gravi Nel senso che Io sono arrivato a PES Prima A FIFA poi In degli anni In cui Facevo buone partite Per carità Ma insomma Ero numero 3 Numero 4 Numero 5 Dei cronisti Di Sky All'inizio E poi Mediaset eravamo Piccinini E poi c'eravamo io E Bruno Longhi Però insomma Voglio dirti Quella cosa lì In effetti Fu una Una bella mossa Cioè rimasi Un po' sorpreso Perché insomma Ti è arrivata la proposta Cioè non è che ero Niccolò Carosi O Pizzul Quando mi hanno chiamato Quindi quella cosa lì Mi ha fatto molto piacere Lì funziona Che tu un anno Le registri tutte E poi pian piano Lì funziona Che passi la tua vita Ogni tanto Arriva Mi cambra E dice C'è una sessione Ci sono un paio di full Da fare Anche nel corso Della stagione Sì Perché cambiano magari Dei giocatori Delle cose Essenzialmente Autunno Inverno Primavera Poi diciamo che Verso aprile maggio Finisce Per il gioco Dell'anno dopo Però è una cosa Bellissima Devo dire che FIFA è una cosa Ma lì tu hai il gioco Davanti Quando doppi O tu fai le singole frasi Poi hai dei momenti Abbastanza rari In cui ci sono Delle situazioni Che ti vengono mostrate Tu fai Tra l'altro Però che ne so C'è la classica C'è la classica cosa Ci sono 40 frasi Sul fallo laterale Palla in fallo laterale Si ripartirà col fallo laterale Il pallone Finisce in fallo laterale Concede la tush Ci sarà Ripensa Laterale Palla in out Ci sarà una nuova Rimessa laterale Tutto così Ne dici 40 Tra l'altro Le ultime Le hai fatte con Lele Adani anche Giusto? Però non sempre registrano No insieme Infatti sono separati Alcune volte registrano insieme Alcune volte registrano Ovviamente avrai seguito Tutto quello che è successo Durante gli ultimi mondiali Invernali Per quanto riguarda Lele La sua telecronaca Eccetera Tu come l'hai vissuta Lele è un passionale Lele è un passionale È un innamorato del gioco È un grande conoscitore del gioco Certamente Ha delle idee Molto forti Sai un conto Allora un pochino Secondo me Esiste una differenza Fra l'opinionista E il telecronista Nel senso che Questo vale anche per me Io a Radio 24 Faccio l'opinionista Quando qualcuno mi chiede Un'opinione Faccio l'opinionista In telecronaca Racconto un po' di più Quello che succede Chiaramente lui ha una Connotazione molto forte Poi Diciamo anche la verità Che insomma Questo era un mondiale Senza l'Italia Quindi Anche il discorso Diciamo di essere Così tanto innamorato Di Messi Al di là di come è andata Poi a finire Non è Non credo sia stato Un grande problema Qualcun altro Avrà tifato Non per Messi Ci sarà stato pure qualcuno Che proprio perché Lui era così fissato Con Messi Magari ti fava contro Però secondo me Ha contribuito All'interesse Anche secondo me Anche secondo me E poi comunque So che è un sentimento Genuino Ecco questo Quindi So che lui è pazzo Di quella roba lì Ed è tutto real La cosa bella è vera Quindi va bene Non è una cosa Studiata a tavolino È una cosa fatta Perché lui è innamorato Dall'Argentina River Plate Di Messi E eccetera Ma secondo te È contato anche Il contenitore Nel quale l'ha fatto Perché poi tutti Molti si appellavano No sei in Rai E quindi una cosa così Non si può fare Cosa vuol dire Quella roba lì Cioè Non so Francamente non lo so Perché alla fine Uno porta se stesso A prescindere Tra l'altro Bizotto È Che era il suo compagno Diciamo di coppia E invece È proprio L'ho visto ieri sera L'altro Stefano È proprio Il contrario Nel senso È algilo Istituzionale Altoatesino Però è questo Che fa avvicinare Tante persone Cioè in un mondiale In cui non c'era l'Italia In cui non c'era Io l'ho trovata una cosa L'ho trovata una cosa E poi appunto Quello che dico Lo faceva per Quello che è considerato Uno dei giocatori più forti Della storia Quindi se l'avesse fatto Per Topo G Rispetto per Cristiano Ronaldo Totale No 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 Perché voglio dirti questa cosa Non voglio rifare Il dibattito fra Messi E Cristiano Ronaldo Però una delle cose Che mi ha dato più fastidio Negli ultimi mesi È vedere da parte di alcuni Cristiano Ronaldo Trattato come se fosse stato Uno scarso Quelli che ti dicono Eh l'unico Ronaldo Ronaldo era il fenomeno Perché da Ronaldo Il fenomeno È una cosa meravigliosa Un uomo Cioè Veramente Gli darei un bacio Sì Perché da Ronaldo Il fenomeno Meraviglioso Ma Cristiano Ronaldo È stato un giocatore Pazzesco Però secondo me Io sono d'accordissimo Con te E appena cala Capito Però non è solo calare Io sono Nel dibattito Ronaldo Messi Io sono sempre stato Pro Ronaldo A me è sempre piaciuto Molto di più di lui Perché è uno che si è costruito Uno che ha fatto sacrifici Uno che non aveva nulla Per scontato Invece dall'altra parte C'era un talento puro Eccetera Però gli ultimi anni Della sua vita Ha sbagliato Cioè Anche adesso Poteva scegliere Tra virgolette L'immortalità Facendo una scelta Un po' più poetica Anche Messi al Paris Saint Germain Non mi ha fatto impazzire No Però lui gli è andata bene Adesso è successa Questa cosa Del Guarda Per me Cito il primo Cassano Vai Cassano Un Cassano dannata Che disse Una volta Credo In Tikitaka Russia Durante il mondiale 2018 Disse Per me è una definizione Perfetta Cioè Federer è Messi E Nadal è Cristiano Ronaldo Secondo me è esattamente Quella cosa lì Cioè stiamo parlando Di due fenomeni Di due geni Dove la piccola differenza È che uno È un filo più Artistico Prima artistico Cioè Federer E Messi Quindi un filo più tecnico E l'altro È un filo più Invece applicazione E fisico Forse più Djokovic Adesso c'è Djokovic Che manda tutto Djokovic Che ci fa impazzire Che è molto più meccanico Molto più Quasi psicopatico Però anche Anche Nadal Sì No hai ragione Anche Nadal Cioè Poi Stiamo parlando Di talenti infiniti Sì però Ha fatto delle scelte Ronaldo Negli ultimi anni Anche quest'ultima Della squadra Che capisco Eccetera eccetera Cioè nel momento in cui Cioè hai fatto una È come una maratona Cioè hai fatto Una gara bellissima Negli ultimi cento metri Uno ha fatto una cosa E io credo che lui Abbia un po' rosicato Su delle cose Ma per forza E questa cosa però Me lo rende quasi simpatica Cioè è vero Che ha fatto degli errori L'intervista Che fa Con la quale lascia Il Manchester United È chiaramente Un errore di comunicazione E alcune cose I tweet Della fidanzata Durante il mondiale Però Posso dirti Ma Umano Guarda l'altra sera Parlavo con Con Ambro Cioè poi alla fine C'è un elemento Un tratto comune Che riguarda Tutti i grandi Della storia Che è questa Questa sensazione Questa ossessione Questo essere Assolutamente Anche molto soli Nella grandezza E per me Cristiano Ronaldo Lì Ha un po' rosicato Un po' rosicato Avrebbe meritato Avrebbe Sarebbe stato consigliabile Avere un atteggiamento Un po' più Così Da superiore Da signore Però Non ce la fa Perché nel momento Nel quale rosica Rosica È la sua vita Ci ha messo tutta la sua vita Però questo Ti posso dire Che me lo rende Se possibile Anche più simpatico Perché comunque È un elemento Di fragilità umana Da parte di uno Che abbiamo sempre visto Come una macchina perfetta Su 800 gol 900 gol Più di un gol A partita Per tanti anni Il calciatore Meraviglioso Perfetto Un semidio Dal punto di vista fisico Addirittura con degli addominali Più scolpiti dei miei Questo va detto Lo devo riconoscere Beh però Andremo a vedere Siamo lì Siamo lì Per verbar Però Capito Però Poi invece qui C'è un elemento Di fragilità umana Sì Che è venuta fuori Insomma Vabbè Piero Chiuderei con un'ultima cosa Che ti volevo chiedere C'è una cosa Che non hai fatto ancora Che vorresti fare Cioè tu hai fatto Veramente un sacco di cose E lo sport In qualche modo Il tuo lavoro Ti ha portato a fare anche Cose che forse Non erano prevedibili All'inizio Da programmi televisivi A altro tipo di esperienza Guarda Io vorrei continuare A fare Delle cose nuove Nel senso che Mi dici Il sogno Qual è Vorrei continuare A fare delle cose nuove Devo dire Gli ultimi anni Per esempio Mi sono appassionato All'architettura contemporanea Per colpa Della mia Della mia compagna E devo dire Che ho scoperto Delle cose Che non pensavo Proprio Erano lontane da me Non le consideravo Che sono Molto interessanti Vorrei fare delle cose Dove vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti In Triennale Perché lei era Direttore artistico Della Triennale Io avevo litigato Con un mio collega Quel giorno Io non litigo mai Con nessuno Ma Una riunione di scaletta Di pressing Era quindi Il 2018 E C'era una manifestazione Che era Calcio City Io avevo parlato Il giorno prima C'era Enrico Mentana Vieni Passa Eccetera Sono andato a fare l'aperitivo Ho conosciuto questa ragazza Poi l'ho incontrata La settimana dopo A Dinamo Camp Che sai È questa meravigliosa La realtà Dell'Appennino Tosco Emiliano C'era l'Open Day Io avevo una partita Dell'Empoli Roma Se non sbaglio La sera Sì Empoli Roma E alla fine Insomma Diciamo È scattato È successo Subito Sì 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 Secondo te Se ti metti Nei suoi panni È complicato Stare con Pierluigi Pardo Sì Perché io sono Un disastro Perché sono Una persona fragile Poi ho passato Diciamo L'ultimo anno e mezzo Nella mia vita Ho una mamma Che non stava bene Quindi penso Che starmi appresso Non sia stato facile Perché insomma Mamma era Tanta roba Ed è tanta roba Però Però insomma Mi si diverte pure Voglio dire Sono pure una persona Sì No No Ma sì Perché Perché tanto Non ci sono alternative Certo Non ci sono alternative Non è che se tu È come il golf Non è che se tu cerchi Il colpo E ci metti la forza Le cose vengono meglio Le cose vengono Bene o male Ci sono delle cose Che sono imparabili Che vanno oltre La nostra Oltre la nostra Capacità Di provocarle E molto spesso Le cose belle Sono le cose in levare Non sono le cose in battere Tanto è vero Che l'ironia Che mi piace di più È l'ironia In levare Non la battuta cercata Per cercare l'applauso Ma Ma La pausa Il silenzio ironico La faccia Eccetera E E allo stesso modo Appunto nella vita Cioè Più le cose le cerchi Con ostinazione E meno ti vengono Magari E Devi cercare di fare Di divertirti Certo E di avere una buona cena Andare a cena Con persone simpatiche E mangiare bene I tuoi genitori Hanno sempre supportato Questo tuo Questo tuo Voler fare Questo mestiere Guarda mio padre Che era un militare Dell'aeronautica Io Quando sono nato Era sempre inaspettativo C'era sempre in pensione Eccetera Era in pensione Perché era abbastanza anziano Ha smesso presto La carriabilità Però lui voleva Che io facessi Io sono lavorato In economia e commercio Avevo cominciato a lavorare In una multinazionale Procter & Gamble Non saluto Tanto non è nessun marchio Cioè sono mille di marchi Ma il nome dell'azienda Si può dire E E quando ci fu La possibilità Dell'assunzione Da Telepiu A Stream Lui era contrario E io gli ho detto Prendo atto Però Non me ne può fregare Io ho accettato Ovviamente Ho cambiato Ed eccoci Anche se ho molti amici Procter & Gamble Devo dire che Il marketing mi piace Però insomma Però ti è servito In tante cose Della vita Mi serve Poi vabbè Procter & Gamble Era veramente una scuola Straddiana in quegli anni lì Perché ti insegnava Senza insegnarti In maniera Accademica Ma ti insegnava tante cose Per esempio Ecco Priority setting Priority setting È fondamentale L'80-20 Non puoi pensare Di fare bene 100 cose Ti devi concentrare Sulle cose Che rappresentano L'80% Di quello che ti serve Questo vale Quando fai una scaletta televisiva Quando devi decidere Se dire Un'informazione Durante una telecronaca Ma vale anche banalmente Nell'organizzazione Del tempo Della vita Di una persona Quindi Capire le priorità 80-20 cosa vuol dire? Che Fare quello che ti serve Per fare l'80% Che sarebbe l'80% Che non ti puoi concentrare Su tutti i singoli dettagli Tra l'altro Tu sei anche prof O relatore Ci siamo incontrati Una volta Forse era all'Ulm Che avevi fatto Degli incontri Da 6-7 anni Facciamo questo master In comunicazione Io sono abbastanza Mi propongo spesso Di fare le lezioni Di giornalismo sportivo E tendo a non farle Ma non perché Non mi piace È la mia passione Figurati Però credo che Non sia facilissimo L'accesso alla professione Quindi molto spesso Secondo me Si perderebbe lì Cioè fai una roba Perché la gente Vuole fare la telecronaca Eccetera C'è chiaramente Tantissimo amore Per questo lavoro Però è molto difficile Entrare Quindi sarebbe come fare Quasi Ovviamente con cifre Guadagnate diverse Ma sarebbe quasi come fare Un master Per diventare una rockstar Nel senso che Come quantità di Di posti Siamo lì Le partite di Serie A O di Champions League Sono poche Sono quelle Quindi è molto difficile Secondo me Fermo restando Che poi se uno vuole provarci Deve provarci Assolutamente La passione Però invece Faccio con grande Passione Questo master Allo Yulm Che ha anche Una sua componente Di giornalismo sportivo Diciamo di narrazione sportiva Ma che è più sul marketing Che la comunicazione dello sport Dove credo che Ci siano ampi margini E nei ragazzi Tu vedi negli occhi Vedo soprattutto Vedo soprattutto Quanto sono vecchio Però ti tiede giovane Stare con i ragazzi Vedo soprattutto No ma quando sono vecchio Sto scherzando Sono sempre Si parla di cocazzare Ugualità Eccetera eccetera E mi tengo aggiornato Ma vedo veramente Come cambia Come cambia tutto Come è cambiato tutto Cioè come hanno delle cose Che già cinque anni fa I ragazzi I ragazzi Che fanno il corso adesso Rispetto a quelli pre-lockdown Si trovano Un vantaggio competitivo enorme Nel senso che sono Abituati a pensare Al mondo post-lockdown Il lockdown ha avuto Delle incidenze Delle implicazioni Clamorose Sulla vita delle persone Ci sono business Che sono finiti Letteralmente E altri che sono Settori merceologici Che non ci sono più E altri che sono decollati Ha cambiato i codici In una maniera impressionante Noi eravamo abituati Nel mondo occidentale A pensare che una persona Con una mascherina Con un passamontagna Fosse una persona pericolosa E in quel periodo lì È diventato il contrario Era pericoloso Chi non aveva una mascherina E magari tossiva In uno scompartimento Di un treno Secondo me Recuperare un certo tipo Di rapporto Con la vita Con una componente Un po' più lenta Della vita Tutta la teoria Di Boeri Sui borghi Poi la fai Non la fai Non è che ci siamo trasferiti Però comunque Guardare al mondo In una maniera un po' diversa Non dare per scontare Certe cose Non dare per scontata La salute Che prima era una cosa Quindi tante modificazioni Fra queste Ovviamente la possibilità In qualche modo Si ricollega al discorso Che facciamo prima Sulla televisione Di poter parlare Con chiunque E soprattutto come dici Sono cambiati i linguaggi Non ti fa più strano Vedere che in televisione C'è uno Ma anche da parte del pubblico Accetti pure che In prima serata Sul Rai 1 Ci sia a un certo punto Un collegamento Che per un attimo Per un attimo sgancia Perché E anzi Addirittura diventa quasi un valore Perché lo leghi Alla quotidianità Della nostra vita E questo vale Secondo me Un po' per tutte le generazioni Cioè io durante il lockdown Facevo i pranzi collegati Con mamma e suocera Su Zoom Hanno imparato a usare Sì sì è stato un corso Acceleratissimo Piero invece ti ringrazio Per essere venuto qui Di persona Fisicamente Perché è stato un valore Un valore incredibile Tu hai qualche cimelio Pazzesco Che conservi Perché qua ci sono tanti oggetti Io ho la maglia Ho la maglia di Tony Adams Per esempio A proposito di quello Ti dicevo prima Con la dedica Sì Una maglia Credo del 95-96 È la cosa a cui sei più affezionato Beh insomma È una cosa La quale tengo Sì Ho anche una mia maglia Dell'Arsenal Di quando ero bambino Comprata Che continua a conservare Comprata Sì Però non so dov'è La troveremo Secondo me è in cantina Però meriterebbe Diciamo una Una cosa diversa E sì Ma Maradona l'hai incontrato tu Maradona l'ho incontrato Un po' di volte Non da calciatore Ovviamente Per motivi Che sono molto Chiara Sì D'altro Di Maradona Guarda mi ricordo questa cosa E poi veramente Smetto di ammorbarvi Finale di Champions League Ad Atene Mi perdoneranno Il giorno prima della finale Quindi Rifinitura All'allenamento del Liverpool E a un certo punto Maradona che aveva avuto Un po' di vicissitudini Era stato male Eccetera eccetera Lavorava per non so quale televisione A un certo punto Appare Maradona in campo Durante l'allenamento Il giorno prima della finale Di Champions League Allenamento del Liverpool Improvvisamente Nessuno guarda più L'allenamento del Liverpool Ma anche i colleghi inglesi Fu una roba incredibile Poi me lo ricordo a Sky Quando era venuto negli studi A Codogno Monzese E poi devo dire Che i racconti di Ciro Ferrara Sono Epici Sono tanta roba Nel senso che poi Sono molto amico di Ciro E me l'ha fatto conoscere Come se me l'avesse fatto Fato diventare uno di casa Insomma Nel bene e nel male Però In generale Secondo me Guardare con benevolenza Alle fragilità umane È una cosa Cioè Per me poi alla fine Tutto Anche nel dibattito politico Di mille cose Si riassume in questa cosa qua Di fronte a un comportamento Anche sbagliato O a un problema O a un potenziale pericolo Se tu guardi Quella situazione lì Con un senso di Solidarietà O con un senso di Pericolo E tra virgolette Di Di accusa Ostilità Ecco quindi Di fronte anche alle fragilità Anche agli errori Che un gigante Come Maradona ha fatto Qual è la componente Che prevale? Prevale il fatto di dire Moralisticamente Che sta sbagliando O prevale il fatto di dire Che forse anche una figura Così grande Così gigantesca Può aver avuto Un problema Cioè questo poi Riguarda tutte Le principali questioni della vita Si basano Su questa roba qui Se decidi E sono due visioni del mondo Sono proprio due visioni del mondo Pier grazie davvero Abbiamo chiuso la grande Ciao Pier Luigi Parlo È passato dal basement Diga Qualità Non ti non hai detto Qualità Qualità Il tormentone Più tormentone Sì Però non andavo per scontare Qualità Dire ma È passato dal bimbo Mi Grazie.